Hanno investito e ucciso una pensionata sotto gli occhi dell'amica che camminava al suo fianco. Poi sono tornati indietro per verificare la situazione e si sono dileguati. La tragedia è successa a Lomello lungo la provinciale 28. L'auto, una crolla con targa bulgara, vistosamente danneggiata, è stata rintracciata a Mede un'ora e mezza dopo dai carabinieri. Secondo la polizia stradale, uno dei due giovani trovati a bordo sarebbe stato alla guida al momento dell'incidente che ieri mattina è costato la vita a Rina Destro, 77 anni, di Lomello. Con un'amica quasi tutte le mattine di buon'ora era solita fare una passeggiata fino a Gagliavola. Stavano già tornando verso casa quando alle loro spalle è piombata la Toyota che ha travolto Rina Destro scaraventandola a diversi metri di distanza. L'impatto è stato violentissimo e la donna è morta sul colpo. Coltivava marijuana per usarla e spacciarla ma è stato arrestato dai carabinieri di Capriata ad Orba. A finire in manette Andrea Prato, giovane 24enne residente a Predosa. I militari, dopo alcune segnalazioni, hanno perquisito l'abitazione del giovane rinvenendo in un vano adibito a magazzino antistante la casa, cinque piante di marijuana, foglie in fase di essiccazione e 28 semi nascosti in un contenitore. Il giovane è stato rinchiuso nel carcere di Alessandria e deve rispondere dell'accusa di coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Grave infortunio sul lavoro ieri a Ticinetto, un operaio di 57 anni, Ciro De Nicola, è rimasto gravemente ferito in seguito ad una caduta da una scala alta 2 metri. Ieri mattina il dipendente della ditta Edil Moro stava effettuando delle misurazioni quando ha perso improvvisamente l'equilibrio ed è caduto a terra picchiando violentemente la testa e fratturandosi i polsi. Trasportato dall'elisoccorso all'ospedale di Casale è ricoverato in gravi condizioni. Un aiuto in più per le persone in difficoltà, un fondo di garanzia rotativo per gli affitti. La prima adesione al fondo è arrivata dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Alessandria con uno stanziamento di 100 mila euro. La decisione è stata presa dopo l'incontro avvenuto il 29 marzo scorso tra il Presidente della Fondazione Pierangelo Taverna e i segretari provinciali della CGL Cisewil per affrontare il tema della grave situazione sociale di alcune fasce di lavoratori a causa della crisi. E per oggi da Alessandria è tutto, grazie per averci seguito. La linea torna allo studio. Grazie a tutti.